Purtroppo sono molti quelli che vuol dire che io con l'onorevole Zinzi e il senatore Manfredi Pateti che io ringrazio vuol dire che la prossima volta dobbiamo individuare una sala più ampia che possa contenere più persone rispetto a questa prestigiosa sala stampa della Camera. Ma io sono anche contento perché è una delle prime uscite che noi facciamo per quanto mi riguarda me non solo come professore ma anche come responsabile nazionale ambiente per la Lega due eminenti parlamentari che sono in commissione ambienti che sicuramente possono portare avanti tante battaglie utili per la tutela, valorizzazione e promozione dei nostri territori e quindi dell'ambiente l'occasione era felicissima perché la presentazione di questo libro alla quarta edizione che è il libro ditto ambientale profili internazionali europei e comparati di tre grandi personaggi professori, docenti, fondatori del ditto ambientale in Italia che è il professor Giovanni Cordini che noi ringraziamo e dopo lo sentiremo, il professore merito Paolo Fois e il professor Sergio Marchisio che non è oggi qua presente perché in Baraima è sostituito dal professor Raffaele Cadini che è ordinario ditto internazionale a Roma la Sapienza e avremo poi con noi un altro grande illustre esperto di diritto ambientale, di politica dell'ambiente che è il professor Gianfranco Tamburrelli che è il primo ricercatore del CNR, docente presso l'Università di Roma alla Sapienza e grande esperto di diritto di politica e diritto dell'ambiente, tra l'altro lui segue le orme di un altro grande ricercatore grande esperto di diritto dell'ambiente, nonché uno dei fondatori del ditto ambientale in Italia che è il professor Carlo Desideri, sulla scia poi di un altro grande costituzionalista, Temistocle Martinez che da responsabile allora del CNR con me fece quel bellissimo saggio, l'ultimo saggio che ha scritto prima di lasciarci, l'ambiente come oggetto di diritti e di doveri. Io innanzitutto voglio ringraziare i due parlamentari, Gianfranco Zinzi che è un amico ma ha grande passione oltre che competenza nel materia ambientale. Ricordo le grandi battaglie che lui ha fatto da consigliere regionale della Campania sulla terra dei fuochi e soprattutto essendo poi anche lui avvocato, quindi essendo anche lui ricercatore di queste materie sicuramente con lui avvieremo, che stiamo già portando avanti, percorsi abbastanza interessanti sempre al fine di diffondere una cultura d'ambiente che non sia una cultura d'ambiente solo quella tradizionale, ideologica e fondamentalista, ma una cultura d'ambiente che sia realista, pragmatica e che sappia coniugare l'esigenza dello sviluppo con la sostenibilità. Del resto vedete questo libro si divide in tre parti, la prima parte è i profili internazionali che è stata curata dal professor Sergio Marchisio, la parte centrale è sui profili europei che è curata dal professor Paolo Fois, l'ultima parte è di Giovanni Cordini sull'importanza della comparazione nella cultura d'ambiente, nella formazione del ditto ambientale. Voglio anche ricordare, solo prima di dare la parola sia a Manfredi Potenti che all'onorevole Zinzi, che la nascita in Italia del ditto ambientale contemporaneo è abbastanza recente. Io ricordo Giovanni Cordini, le prime riunioni da Carbonari col club dei giuristi dell'ambiente a Via delle Coppelle presso l'istituto Sturzo, dove nasce con degli esperti più che dei professori e voglio ricordare Federico Spandigati, Federico Spandigati veniva da Leni, siamo nel fine degli anni 70, inizi degli anni 80, c'era stato il club di Roma nel 72, dove lui con pecce aveva partecipato, e ricordo un altro grande politico che in Italia ha portato, che è Pannella sicuramente, dal 72, vedete il club di Roma, sono dei liberali, i quali introducono in Italia sulla scia di ciò che era avvenuto nel 72 a Stoccolma, la convention promossa dall'ONU sull'esistenza o meno del ditto umano all'ambiente, che inizia a formarsi in Italia e in Europa, in modo particolare, una sensibilità nuova sulle politiche ambientali. Le prime carte di ditto ambientale in Italia sono di politica dell'ambiente. Voglio ricordare un grande liberale, che poi diventò anche ministro, Mario Pavani, dell'Università di Pavia, ecologo, primo ministro, il primo di Castero, che è il ministro dell'ecologia, e poi c'è un altro grande studioso di politica dell'ambiente a Napoli, Ugo Leone, Università di Napoli, un geografo. Le prime carte di ditto dell'ambiente sono ancora più recenti, inizio degli anni 90. Pavia, e poi mi dico metà degli anni 90 anche a Napoli. Ricordo quando mi diedero il primo incarico di ditto dell'ambiente alla seconda Università di Napoli, a giurisprudenza c'erano quelli di ecclesiastico e di canonico che si lamentavano. Perché che cos'è questo ditto ambientale? Siamo a metà degli anni 90, c'era stato già il 92, che è Stoccolmo, c'era stato il Rio de Janeiro, che comunque è stato un summit molto importante sulle politiche ambientali, invece di fare canonico 2, canonico 3, fanno il ditto dell'ambiente. Ma che cos'è questo ditto dell'ambiente? A che serve il ditto dell'ambiente? E là Giovanni Cordini assieme a Marchisio e anche a Fois, che è stato sempre del Club dei giuristi dell'ambiente, un protagonista, iniziarono i primi manuali di ditto dell'ambiente. E da là poi devo dire che c'è stato un ricordo Ricchia, Lombardi, Saro Ferrara, Nicola Greco, Livetti Rason, Paolo Dell'Anno, altro grande giurista che si è occupato di ditto dell'ambiente, nella magistratura Mendola, voglio ricordare, che è stato tra quei pretori d'assalto all'epoca che cominciarono a parlare di interpretazione di alcune norme sulle politiche e sul ditto ambientale. Prima io citavo un altro grande giurista che è stato sicuramente un padre fondatore del ditto dell'ambiente, che è Temisto Gle Martinez, con il suo saggio L'ambiente come oggetto esercizio di dovere, dove diceva che noi dobbiamo rivendicare il diritto, articolo 2, articolo 3, articolo 32, 9, 41 della Costituzione, ma a fianco al diritto c'è anche l'esercizio del dovere, perché se tu non puoi in essere un comportamento che è un onere, il diritto non si realizzerà. Un altro che voglio ricordare è Postiglione, altro magistrato che ha contribuito a fondare in Italia il diritto dell'ambiente. Concludo questa mia brevissima riflessione con un concetto, l'ambiente è un valore, anzi l'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale con la riforma dell'articolo 9, dove l'ambiente diventa anche un valore costituzionale che è qualcosa di etico sicuramente, che è il comportamento, perché l'ambiente come si dice in questo volume è essenzialmente la qualità della vita. La qualità della vita è l'aria, l'acqua, ma anche la immaterialità, il rapporto con gli altri, quindi l'ambiente come insieme di elementi fisici, chimici, biologia e sociale. Il sociale è l'immaterialità della lingua, dei dialetti, è l'immaterialità della musica. L'ambiente è il territorio e sul territorio non c'è solo flora e fauna, sul territorio ci sono le persone che costruiscono, per cui le costruzioni, la Tour Eiffel sicuramente che non ha niente di naturale, ma sicuramente è testimonianza della creatività e della civiltà di un territorio e poi l'ambiente siamo noi, con la nostra educazione, con il nostro comportamento. Il nostro comportamento può essere di degrado, degradare l'ambiente, curarlo, amarlo, rispettarlo ed esserne responsabili. Lo sviluppo sostenibile è l'altro concetto fondamentale di questo volume. Mi piace, Giovanni Gordini, quando mi cita, parla di un ambientalismo che non è ideologico e fondamentalista, facendo riferimento a dei miei testi, perché io ritengo che lo sviluppo non si può negare. Noi non possiamo dire che vogliamo la decrescita, noi vogliamo lo sviluppo, solo che il modello di sviluppo deve essere la sostenibilità. La sostenibilità è il calcolo del rischio. Qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? Quale tecnologia ci può essere di aiuto? Dire che il rischio zero non esiste, è una fumisteria, è un romanticismo, è una cosa bella, che si piace tanto, però poi la pragmaticità, la realtà è un'altra cosa. Tra i catastrofisti e i negazionisti si vuole porre questo libro che è realista, che è pragmatico. Io ringraziando i tre autori, che dopo sentiremo brevemente, voglio invitarvi a leggere il libro, a utilizzarlo perché ci può essere d'aiuto non solo per la cultura d'ambiente che ognuno deve avere, ma anche e soprattutto per creare quella cultura d'ambiente che ci aiuta poi a risolvere i problemi. Passo subito la parola al senatore Manfredi di Poter, io lo ringrazio molto Commissione Ambiente, subito ho familiarizzato con lui, ho soprattutto apprezzato non solo tanto la competenza che è tanta ed è forte, ma la passione, il pathos, e vedete il pathos è qualcosa che ognuno ha quella carica di energia che ognuno di noi ha, chi ha meno, chi ha di più, a seconda delle proprie inclinazioni, io subito ho intercettato la sua grande passione e sono sicuro che insieme faremo delle cose belle. Grazie.